Annabeth. Annabeth si svegliò fissando le ombre che danzavano sul soffitto della capanna. Non aveva sognato niente. Un evento così insolito da farle dubitare di essere davvero sveglia. Distesa nel letto, con Percy che le russava accanto e Bobbino che faceva le fusa accovacciato sopra la sua pancia, sentì Bob e Damaseno parlare tra loro. Non gliel'hai detto? chiese Damaseno. No, ammise Bob. È già abbastanza spaventata. Il gigante prontolò. Com'è giusto che sia. E se non ce la fai a condurli oltre notte? Damaseno usò la parola notte come un nome proprio. Un nome malvagio. Devo, replicò Bobbino. Perché? Cosa ti hanno dato i semi-dei? Hanno cancellato la tua antica personalità, tutto quello che eri. I tani e giganti. Noi dovremmo essere i loro nemici, i loro nemici immortali. Come lo siamo degli dei loro genitori. No? Allora perché hai guarito il ragazzo? Damaseno sospirò. Me lo sono domandato anch'io. Forse perché la ragazza mi ha convinto. O forse perché questi due semi-dei sono... interessanti. Hanno dimostrato una grande resistenza arrivando fin qui. Una cosa ammirevole. Però come possiamo continuare ad aiutarli? Non è il nostro destino. Forse no, disse Bob imbarazzato. Ma a te piace il nostro destino? Che domande. Sei qualcuno a cui piace il proprio destino? A me piaceva essere Bob, mormorò il titano. Prima che cominciassi a ricordare. Annabeth udì un tramestio, come se Damaseno stesse riempiendo una borsa di cuoio. Damaseno, ti ricordi il sole? Chiesi il titano. Il rumore cessò. Annabeth sentì il gigante sospirare. Sì. Era giallo. Quando toccava l'orizzonte, il cielo si tingeva di colori magnifici. Mi manca il sole, disse Bob, e mi mancano anche le stelle. Mi piacerebbe salutarle ancora. Le stelle. Damaseno lo ripeté come se non ricordasse più il significato della parola. Sì, ti segnavano motivi d'argento nel cielo notturno. Qualcosa cadde a terra con un tonfo. Da, chiacchiere inutili. Non possiamo. In lontananza, il dragone meoniano ruggì. Percy si drizzò di colpo a sedere sul letto. Cosa? Dove? È tutto a posto? Annabeth gli posò una mano sul braccio. Quando Percy si rese conto che erano insieme nel letto di un gigante in compagnia di un micio scheletro, fu più confuso che mai. Quel rumore... Dove siamo? Tu cosa ricordi? Domandò Annabeth. Percy aggrottò la fronte. Aveva un'espressione vigile. Tutte le sue ferite erano scomparse. A parte i vestiti a brandelli e qualche strato di terra e sporcizia, sembrava che non fosse mai precipitato nel tartaro. Quelle vecchiette demoniache. E poi... non molto. Damaseno si stagliò sopra di loro. Non c'è tempo, piccoli mortali. Il dragone sta tornando. Ho paura che il suo ruggito attiri gli altri. I miei fratelli, che vi danno la caccia. Saranno qui nel giro di pochi minuti. Il cuore di Annabeth accelerò. Cosa gli dirai quando arriveranno? Il gigante storse la bocca. Cosa c'è da dire? Niente di significativo, purché ve ne siate andati. Gettò ai ragazzi due sacche di pelle di dragone. Abiti, cibo e bevande. Bob aveva un sacco simile, ma più grande. Si appoggiò alla scopa e fissò Annabeth, come se stesse riflettendo sulle parole di Damaseno. Cosa ti hanno dato i semitei? Noi dovremmo essere i loro nemici. I loro nemici immortali. All'improvviso, Annabeth fu colpita da un pensiero così nitido e chiaro che sembrava una lama scagliata da Atene in persona. La profezia dei sette! esclamò. Persi era già sceso dal letto e si stava mettendo la sacca sulle spalle. La guardò senza capire. Cosa? Annabeth afferrò la mano di Damaseno. Il gigante trasalì, aggrottando la fronte. Aveva la pelle ruvida come roccia. Devi venire con noi, lo supplicò Annabeth. La profezia parla di nemici armati alle porte della morte. Pensavo che volesse dire romani e greci, invece no. Queste parole si riferiscono a noi. Due semidei, un titano e un gigante. Abbiamo bisogno di te per chiudere le porte. All'esterno il dragone ruggì. Era più vicino stavolta. Damaseno scostò la mano con delicatezza. No, bambina, la mia maledizione è qui. Non posso evitarla. E invece sì, replicò Annabeth. Non combattere contro il dragone. Trova un modo per spezzare questo circolo vizioso. Creati un altro destino. Damaseno scosse la testa. Anche se potessi, non riesco a lasciare questa parude. È l'unica meta che so immaginare. Ad Annabeth frullarono mille pensieri per la testa. C'è un'altra meta. Guardami. Memorizza la mia faccia. Quando sarai pronto, vieni a cercarmi. Ti porteremo nel mondo mortale insieme a noi. Potrai vedere la luce del sole e le stelle. La terra tremò. Il dragone era vicino ormai. Attraversava a grandi passi la palude, distruggendo gli alberi e il muschio con il proprio oggetto velenoso. In lontananza, Annabeth udì la voce del gigante polibotte che spronava i suoi seguaci. Avanti! Il figlio del dio del mare è vicino! Annabeth, dobbiamo andarcene! La incalzò Persi. Damaseno estrasse qualcosa dalla cintura. In mano a lui, quell'oggetto bianco sembrava un altro stuzzicadenti, ma quando glielo porse, Annabeth vide che era una spada. Una lama di osso di dragone, affilatissima, con una semplice impugnatura di cuoio. Un ultimo dono per la figlia di Atena, tuonò il gigante. Non posso lasciarti andare disarmata incontro alla morte. Adesso partite! Prima che sia troppo tardi! Annabeth si sarebbe messa a piangere. Prese la spada, ma non riuscì neanche a dirgli grazie. Sapeva che il gigante avrebbe dovuto combattere al loro fianco. Era quella la soluzione. Ma Damaseno si allontanò. Dobbiamo andare, l'incalzò Bob, mentre il gattino gli si arrampicava su una spalla. Ha ragione, Annabeth, disse Percy. Corsero fuori dalla capanna. Mentre si addentrava nella palude al seguito di Percy e Bob, Annabeth non si voltò indietro, ma sentì Damaseno urlare il proprio grido di battaglia contro il dragone che avanzava, la voce rotta per la disperazione, mentre affrontava per l'ennesima volta l'eterno nemico.